Giunti alla meta con la certezza dell'amore del Signore, il giudice e le cui caratteristiche sono la misericordia e la pietà. Così Papa Francesco ha ricordato i cardinali vescovi defunti in questo anno nella messa celebrata il loro suffragio nella Basilica Vaticana. Il cammino verso la casa del Padre affermato comincia per ciascuno di noi nel giorno stesso in cui apriamo gli occhi alla luce e mediante il battesimo alla grazia. Il Pontefice ha poi evidenziato la loro testimonianza e l'amore donato agli altri con la parola e l'esempio e proseguito hanno esortato i fedeli a fare altrettanto. Sono stati i pastori del grege di Cristo che si sono spesi per la salvezza del popolo, animati dall'amore paterno verso i poveri, gli indifesi e bisognosi di aiuto. La loro morte, ha sottolineato Papa Francesco, è l'ingresso nella pienezza della vita e anche se c'è separazione terrena, la potenza di Cristo e del suo spirito ci unisce in modo ancora più profondo. Nel nome di Dio della misericordia e del perdono, le loro mani hanno benedetto e assolto, le loro parole hanno confortato e asciugato lacrime. La loro presenza ha testimoniato con eloquenza che la bontà di Dio è inesaudibile e la sua misericordia è infinita. Alcuni di loro sono stati chiamati a rendere testimonianza al Vangelo in maniera eroica, sostenendo pesanti tribolazioni. Grazie. 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 Grazie.